All'inizio ho pensato che sapere un po' di italiano mi avrebbe aiutato in Italia. Quella mattina ho capito subito che questo non era il caso. La bella lingua del caffè. Buongiorno! Posso ordinare la prima colazione per il mare? Sì, sì, un momento. Grazie. Questa è colazione? Sì, un euro ai venti. Gli italiani amano il loro bel caffè proprio come il loro amore per l'amore. Scopri la vita al caffè e imparare la vita alla giornata. Prendi il caffè durante una passeggiata e parli con gli italiani in piazza. Bevi il caffè come un italiano e si goditi la vita in Italia. Che bello!